Allora, com'è andata a scuola oggi? È stato molto interessante. Abbiamo parlato di come dare un contributo alla comunità. Mi è venuta voglia di aiutare gli altri per fare la differenza. Che bella idea! Sai una cosa? Potremmo lasciare un segno più grande unendo le nostre forze. Il lavoro di squadra fa miracoli. Potremmo fondare un club! È un'ottima idea! Un club solidale! Come possiamo chiamarlo? Che ne dite di club solidale di Skipper e le sue sorelle? Eh, sì, stavo scherzando. Eh, devo dire che club solidale però suona bene. Club solidale di Malibu! Woohoo! Allora, cosa facciamo come primo progetto? Hmm. Perché ti sei fermata? Questo spazio pubblico è abbandonato da anni. Oh, sì, ed è pieno di rottami e di rifiuti. Esattamente. A nessuna di voi è venuta un'ispirazione? A me sì! Potremmo lasciare il segno se questo posto diventerà fantastico! Sì! Cosa possiamo fare per migliorare questo spazio in maniera ingegnosa? Che ne dite di un giardino? Mi piace! Un giardino è fonte di cibo, bellezza ed ha un senso di comunità al quartiere. Ma quale tipo di giardino dovrebbe essere? Io lo so, un giardino di farfalle! Riuscite a immaginare quanto sarebbe bello! Oppure, non sarebbe meglio un giardino in cui la gente avesse la possibilità di radunarsi e divertirsi in compagnia? O potremmo fare dei concerti? E se fosse un giardino con, sapete, le cose da giardino? Tipo la frutta, i fiori e le verdure? Ricordate che il Club Solidale di Malibu si basa sul lavoro di squadra. Non siamo costretti a scegliere un solo tipo di giardino. Possiamo farli tutti e tre. Bene! Ma credo che avremmo bisogno di aiuto. Ce l'abbiamo fatta! Il giardino per il quartiere è bellissimo! Non vedo l'ora di organizzare un grande concerto per l'inaugurazione! Chi ha voglia di uno snack? Io ho portato da bere! Buongiorno! Siamo le fondatrici del Club Solidale di Malibu e vi diamo ufficialmente il benvenuto nel nuovo giardino del quartiere! Speriamo che vi piaccia tanto quanto a noi è piaciuto allestirlo! Beh, questo sì, che è proprio un bel modo di lasciare il segno! E anche per divertirsi! Grazie a tutti! Speriamo a tenere! La guardia di un gruppo! Grazie a tutti.